ANSA, Genova, 25-7. Questo salone, che è fondamentale per Genova, è il salone nautico per eccellenza, e deve rimanere tale e crescere sempre di più. Lo ha detto il ministro della difesa, Roberta Pinotti, in visita al salone nautico di Genova, commentando i dati positivi di questa manifestazione. Quando avevo parlato col ministro Calenda avevo spiegato quanto il salone fosse importante per Genova, ha spiegato il ministro ricordando come all'inizio il problema fosse quello dell'intesa tra le associazioni. Il finanziamento, che il governo ha annunciato con il ministro Del Rio, è arrivato e credo che ne sia valsa la pena. Questi risultati sono un ottimo segnale, come lo è anche il fatto che le associazioni stiano di nuovo dialogando, ha sottolineato.